Quindi voi siete gli imprenditori e a un certo punto tutti gli imprenditori vivono questa esperienza dello startup. Lo startup è quando da zero si va a uno, da un'idea si va a qualche cosa di concreto. Ed è un po' come quando nasce un bambino, prima non c'era e poi all'improvviso c'era e uno dice ma non si capisce come è possibile, ma è una cosa bellissima. Tanto è vero che molti imprenditori fanno riferimento alle loro ditte come i loro figli, che è una cosa buona e cattiva. Io stesso ho parlato spesso della logite con un figlio e questo mi ha impedito a volte di essere razionale nelle scelte che poi ho fatto. Leggendo un libro di Hermann Hess, che credo in italiano si chiama Magister Ludi, in inglese lo chiamano The Classic Game, c'erano delle poesie poi alla fine di questo libro, è una di queste sì, in italiano è tradotta Gradini. Ogni inizio contiene una magia che ci protegge e a vivere ci aiuta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.